Meglio il pane degli gnocchi, sagra degli gnocchi, ma fra poi ho ordinato gli gnocchi, guardate, come, quanta gente, col sugo, ma se no, è fischissima. Sono favolosi perché la patata è piena di 20 di casa, com'è? Gnocchi, alun, alun. Non solo gnocchi, ma guardate anche prosciutto e melone, accontentiamo tutti!